4 punti di Battisti, tiro libero supplementare, vediamo se ha aggiustato la mano della lunetta no, sono già 9 gli errori, se non sbaglio consecutivi, e c'è un autocanestro incredibile c'è un autocanestro incredibile, numero 14, Miani, pubblico che applaude non sappiamo se è un regalo di Natale, una svista o che cosa, credo che personalmente non mi sia mai capitato di assistere a una cosa del genere sono mattino frastonato, chiedo scusa ai telespettatori a casa, comunque è un regalo che non inciderà assolutamente per il punteggio perché la Giatti ha ancora 18 punti a recuperare con 3 minuti e 16 secondi alla fine ma il canestro che consegniamo a Youtube, molto probabilmente e che FG Sport Channel farà vedere, rivedere, penso in continuazione, c'è il minuto di sospensione grazie